Ci sono solo due sindaci abruzzesi, quello di L'Aquila, Massimo Cialente, a capo di un governo di centrosinistra, e quello di Chieti, Umberto Di Primio, alla guida di un governo di centrodestra, nella classifica stilata da Data Media Ricerche, nell'ambito dell'indagine denominata Monitor Città, che indica il gradimento dei cittadini nei confronti dei sindaci delle città capoluogo in base all'operato. Nella classifica entrano soltanto i sindaci al di sopra del 55% di gradimento. Quest'anno sono in 36. Tra loro non c'è neppure una donna. La diciannovesima edizione dell'indagine relativa ai primi sei mesi del 2013 vede al primo posto ex equi sindaci di Lecce e Pordenone. Per quanto riguarda l'Abruzzo, Cialente, primo cittadino di L'Aquila, si posiziona al numero 18. Il sindaco ha registrato, rispetto al secondo semestre del 2012, un lieve incremento pari allo 0,3% e si attesta al 58,2% di gradimento. Più in basso alla posizione numero 30 troviamo il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che riporta un 55,8% di gradimento, segnando un più 0,2% rispetto all'ultima rilevazione riferita al secondo semestre 2012. Il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, non compare in classifica. È arrivata l'ennesima conferma, dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico, Stefano Casciano. Pescara non ha più un sindaco. Anche questa volta, aggiunge, Mascia non è presente nella classifica dei sindaci più amati d'Italia e questo non sorprende, specie se si pensa che in questi anni ha continuato, mese dopo mese, a perdere consensi e credibilità.